Bella a tutti i forniteers, benvenuti sul leon tube, eccoci ancora in un altro video degli incarichi in sintonia andiamo ad attivare l'uplink, eccolo qua e vediamo quale missione ci aspetta ok danneggio avversario usando un'arma di Star Wars, ok qui a quanto ci ha detto è qui quindi andiamo a cercarla allora per trovare l'arma di Star Wars bisogna dirigerci in una nuova zona della mappa dove c'è praticamente l'accampamento di quello che dovrebbe essere Darth Vader che è qua, ora un attimo che mi devo rinfocillare con lo spray ok andiamo siamo qui, andiamo a vedere ci dovrebbe essere una mega cassa potevamo anche rifarlo ormai in un'altra partita eccolo qua l'accampamento ok siamo in macchina, perfetto eccolo qua, un bel forziere qua dentro andiamo a vedere se lo troviamo eccolo, eccolo qua, trovato, perfetto ora prendiamo la nostra bella boboletta spray quindi avete visto dove trovare l'arma ora andiamo a cercare avversari ai quali infliggere 500 danni di energia e di vita ok ora non ci rimane che iniziare a far danni ecco qua che lui ha anche l'altra arma, buono dov'è? mi piace è mancato eccola qua la spada dove se ne sta nascosto questo qua? oh mi ha cambiato arma ok comunque avete visto come fare la missione dopo dovete togliere 500 punti danni se la missione vi è stata d'aiuto mi raccomando un bel mi piace e condividetelo con i vostri amici non dimenticate di lasciare un commento e se vi va vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale e non dimenticate di cliccare la campanella per non perdere gli aggiornamenti ciao a tutti